Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è giovedì 3 settembre 2020 e questa è Fano TV che come tutte le mattine alle 7 in diretta vi propone la lettura dei titoli delle notizie più importanti, notizie che abbiamo selezionato per voi, quindi già belle pronte da approfondire solo acquistando i giornali in edicola. Come sempre però cominciamo dal calendario con il santo, oggi è San Gregorio Magno è stato Papa e Dottore della Chiesa, 6.36 questa è l'alba, il tramonto invece alle 19.45. Uno sguardo come sempre anche al tempo, avremo questa mattina possibilità di qualche breve piovasco sparso nelle zone collinarie e costiere, nel pomeriggio rovescio temporale isolato nelle zone montane più probabili nel settore settentrionale della regione, per domani invece, domani è venerdì 4 settembre, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, sabato sereno in tutta la regione con praticamente una giornata tipicamente estiva, possiamo dire, le temperature, tempo stabile anche nei prossimi giorni, nel fine settimana le temperature, diamo uno sguardo perché comincia insomma la sera, di sera si sente che le temperature sono diminuite, che fa più fresco, comunque quelle massime anche per oggi, vedete abbiamo 23 gradi ad Ancona, 24 a Peserofano, insomma ecco, quindi diciamo che non c'è più il caldo di agosto, ma comunque si sta decisamente bene e si sta decisamente bene, si starà bene sicuramente anche qui, attendo, ecco qua, attendo il collegamento in diretta con la spiaggia di Sassonia dove c'è, vedo Tommy, il nostro bagnino, dicevo oggi sarà comunque caldo, buongiorno, adesso 25 gradi si sta bene al mare, dai. Sì, a voglia, che temperatura veramente gradevole, si starà Dio. Ok, vedo, ecco, uno che passeggia dietro di te, quindi c'è attività, c'è vita. Sì, ma poi la Sassonia ha ripreso proprio vita per le passeggiate, perché non so se vedi quanto frontemare abbiamo guadagnato dopo l'ultima mareggiata. Eh beh, devo dire, effettivamente vi ha restituito parecchia roba, parecchio spazio. Eh, adesso si può fare sempre meglio, però è stato un bel regalo di fine stagione, l'avrebbe dovuto fare prima. Forse un po' prima, eh. Va bene, comunque vedo che ancora lettini sono tutti lì, quindi la gente ancora, gli abbonamenti, gli abbonati, insomma, sono tutti pronti questo fine settimana a tornare, a tornare di nuovo in spiaggia. Vediamo, ecco, che bello questa. Assolutamente. Grazie allora, buon lavoro e come sempre. Grazie a voi, buona giornata. Un pizzico di invidia c'è sempre, eh, anche in questi primi giorni di settembre. Andiamo, buona giornata. Andiamo adesso subito a vedere i giornali. Allora, ciao Filippo, eri un amico, il cordoglio in città per la scomparsa di D'Averio, il critico d'arte che era stato appeso recentemente. Mancano i bidelli, docenti e aule. Il punto dei presidi a dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico, ricorrere alla didattica mista, resta l'unica soluzione. Quindi probabilmente qualcuno andrà in presenza sui banchi di scuola, qualcun altro dovrà farlo attraverso il computer a casa. La gioia di un padre, dopo due anni, riesce a riabbracciare il suo figlioletto, il suo figlio. La madre è stata accusata di sottrazione di minore. E poi i lavori pubblici inaugureremo il bocciodromo a novembre. Per la politica, Acquaroli vola, Mangialardi a meno dodici, caccia agli indecisi. Si fa riferimento ovviamente ad un sondaggio. E poi l'addio a Simona, la responsabile di Melampo, per tutti la paladina degli animali. Il caso, mi hanno fatto perdere quel concorso, è la storia che vedremo tra poco di una mamma che racconta come il figlio che è positivo al Covid, non può partecipare all'esame, al concorso. Causa Covid, gli salta l'esame per medicina. Affano la rabbia di un 19enne finito in quarantena, così sprecherò un anno di università. E questa invece è un'altra vicenda. Paolo Ercolani, docente all'Ateneo di Urbino, denuncia la sua concorrente per falso. Andiamo adesso invece sulla prima pagina del Corriere Adriatico. Scuola alla protesta dei pendolari. In apertura sono i docenti entrati di ruolo da pochi giorni e che si ritrovano con la cattedra lontano da casa. Per la legge niente trasferimenti prima di cinque anni, ricorso al sindacato. La CGL dice e parla di iniquità. Poi a centro pagina la fotonotizia del Murales dedicata a Liliana Segre. Segre è un Murales per i suoi 90 anni, inaugurato il dono del Comune di Pesaro. Poi sull'epidemia, lo vedremo tra poco, altri 17 casi, ma i ricoveri per Covid-19 non salgono. Sotto, oltre 11 mila artigiani, ancora aspettano la cassa integrazione. A Pesaro, Piazzetta Bruno, senza più parcheggi, bocciato il progetto. E poi a Fano, addio alla Presidente di Melampo, guerriera in difesa degli animali. Il Brodetto Fest, l'unico evento che è rimasto in piedi a Fano, compie 18 anni. Tutti da gustare, ma quest'anno niente stende. Questa mattina abbiamo deciso di aprire la rassegna stampa. Le pagine interne della rassegna stampa con la pagina di Senigallia. Perché la pagina di Senigallia si occupa di truffe. E siccome tra i nostri tanti telespettatori ci sono anche gli anziani, quelli che sono soli in casa e che noi salutiamo come sempre con tanto e grande affetto, vogliamo ancora una volta, e lo facciamo da 15 anni, perché tutte le sante volte che c'è un articolo che riguarda le truffe, noi ci fermiamo e vi diciamo la stessa cosa. Allora, andiamo a leggere velocemente questo articolo e poi vi rinnoviamo l'invito a fare attenzione. Finti tecnici raggirano e derubano anziano. Tutto questo è avvenuto a Senigallia. Stiamo parlando di tre truffe nel giro di 72 ore. Il primo a finire nel mirino dei malviventi è stato un uomo di età avanzata, residente della frazione di Roncitelli, che era stato, attenzione, avvicinato da due uomini che si erano presentati a bordo di una macchina, di una station wagon. Si erano presentati come addetti alla disinfestazione per il Covid-19, ordinata dal Comune. Ovviamente era tutto falso, tutto finto. Avevano chiesto di riporre in una zona sicura, quindi oro e contanti, pensate, per evitare che il prodotto che sarebbe stato diffuso in casa li danneggiasse. L'uomo che vive solo insieme al suo cane di 22 anni li ha creduti e in pochi minuti è stato prima intontito con uno spray e poi derubato. Ma non solo, il secondo furto, la seconda truffa, un anziano, residente di Via Verde, ha aperto la porta a due uomini che erano lì, che si erano presentati per parlare di utenze, gas, luce, fare un contratto, eccetera. Ha aperto la porta, si sono introdotti in casa e dopo averla distratta si sono allontanati con la scusa di andare a prendere il materiale. Insomma, le hanno portato via 120 euro. L'ultima, in Via Dante Lighieri, che martedì alle 19.30 ha aperto la porta di casa, anche qui ha due uomini che si sono presentati come tecnici dei servizi. Poi, con la solita tecnica, uno parla con il signore lì che sta lì, con voi, e l'altro gira per la casa. I due sono, uno l'ha distratto e alla fine 500 euro, insomma, anche lì gli hanno portato via 500 euro. Allora, al di là di come si presenteranno, di cosa vi diranno, dell'aspetto che sarà comunque rassicurante perché sono tutti ben curati, parlano bene, sorridenti, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che voi avete bisogno di un po' di compagnia e che vi piace fare due chiacchiere con qualcuno perché sennò passate tutto il giorno a casa senza dire una parola. E quindi anche questo è concepibile, è comprensibile. Ma la cosa che non dovete fare, scrivetelo da qualche parte, anzi, scrivetelo nella porta di casa, non fare entrare nessuno in casa. Nessuno. Questo è l'unico modo per evitare di essere truffati e raggirati perché una volta che voi li fate entrare dentro casa, questi sono bravissimi, uno si ferma con voi e fa due chiacchiere, l'altro va in camera da letto, gira, rovista e porta via quello che si può portare via. Quindi regola numero uno, a prescindere anche avessero delle divise, voi lasciateli fuori di casa, non li fate entrare. E così ve lo ripetiamo per l'ennesima volta. E anche qua vedete sotto, sempre sul resto del carino di oggi, ladri ancora in azione, svaliggiata una casa, tre castelli qui addirittura nel tardo pomeriggio di martedì, sono entrati e hanno portato via alcuni oggetti di valore. Ora, l'altra notizia invece di cui si parla, che sta interessando anche l'Italia intera, perché c'è ancora un fitto mistero attorno alla morte di questa ragazza, oggi si sa in realtà molto di più, c'è addirittura la fotografia, andiamo a vederla, giustamente la fotografia di questa persona che nonostante sia deceduta è comunque criptata perché è minorenne. Allora, la ragazza è morta per annegamento, parliamo di questa giovane che è stata trovata in spiaggia, vedete sotto questo televerde, una domenica mattina, non si sapeva nulla di lei fino a qualche ora fa, poi dall'estero è venuta dalla Repubblica cieca, si è fatta viva la madre che ha chiamato il ristorante che sta sotto l'appartamento che avevano affittato questi due, lui ha 40 anni, lei 17, erano in vacanza, avevano affittato quest'appartamento sopra questo ristorante, dalle parti di San Benedetto, ebbene questa è ancora la macchina con la quale sono arrivati, pare una coppia tranquilla, una coppia senza nessun tipo di problemi, tra l'altro intatto persino l'interno dell'appartamento, a Martinsicuro, quindi non hanno toccato niente, quindi di conseguenza per gli inquirenti, insomma questo elemento che la casa non era sotto sopra, che tutto era lì, apparentemente lì, insomma fa pensare ad un incidente, e non ha un allontanamento volontario, quindi l'ipotesi che in questo momento sta in piedi, la più probabile è che queste due persone, questa coppia abbia fatto un bagno notturno, oppure che possa aver deciso di essere, insomma di fare domenica mattina presto un bagno al mare, ma con il mare molto mosso, quindi adesso si sta cercando anche lui, lo si sta cercando in mare, perché probabilmente anche lui è annegato come la sua compagna. Ieri intanto l'addio a Roma a Edoardo Longarini, il costruttore ed ex patron dell'Ancona Calcio, morto lunedì notte all'età di 89 anni, funerale nella chiesa dei Parioli, in forma strettamente privata. La pagina dei Covid, Corriere Adriatico, crescono i positivi ma non i ricoverati, ieri 17 nuovi contagi, 8 dei quali sintomatici, le infezioni attuali salgono a 320, invariato cioè 15 il numero dei pazienti Covid in ospedale, le quarantene sono in salita. La pagina di Fano, maturi nel tempo del coronavirus, il Brodetto Fest sta con i ristoratori, per la 18esima edizione annullati gli stand, il piatto si gusta in 30 locali, al prezzo di 20 euro. E poi sempre dalla pagina di Fano del Corriere, muore la Presidente di Melampo, guerriera tutela degli animali, Simona Maroccini stroncata da un male a 55 anni, il ricordo del comune di Fano. Era l'anima instancabile del canile di Tre Ponti, per il quale aveva formato molti volontari. Ripartono i lavori della ciclovia fino a Rio Crinaccio, per l'ultimo tratto verso Senigallia, si studia un percorso sulla spiaggia. Poi Claudio Giardini, Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, esperto di storia dell'arte, era già un consigliere, è stato insomma eletto nuovo Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di incaricarlo nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio d'amministrazione guidato da Giorgio Gragnola. Addio a Simona Maroccini, questo è il titolo invece del resto del Carlino, Paladina degli animali, si è spenta per una malattia a soli 53 anni, è la responsabile del canile Melampo, da quasi 20 anni si occupava degli amici a quattro zampe, il sindaco dice di lei è stata una vera guerriera. Intanto a proposito di animali, guardate questa micetta qua, è stata trovata, trafitta con un tondino di ferro, è stata operata e poi salvata, aveva uno spiedone nell'addome, non si sa ancora se è stato un incidente oppure maltrattamento, ci sono comunque delle indagini in corso. La storia di Marco Ulisse invece, con la madre il giorno della maturità, ha il Covid, lui niente test dunque per medicina, la rabbia di un 19enne in quarantena, perdo dice lui un anno di università, per la disorganizzazione delle istituzioni. C'erano tanti modi, dice la mamma arrabbiata, per permettere a questi ragazzi di svolgere la prova in sicurezza, e invece tutto è rimasto così. E restando in tema di scuole, di studio e quant'altro, Urbino e Provincia, all'Uni di Calmazzo a Fossombrone, è polemica, a settembre tutte e cinque le classi della prima di Calmazzo, della primaria di Calmazzo, verranno spostate nel capoluogo, nonostante le varie possibilità che c'erano per farle rimanere in loco. Dunque i bambini della scuola elementare, il 14, affronteranno il primo giorno di scuola a Fossombrone città, questo causa Covid, ovviamente, e Michele Chiarabili, che è responsabile della minoranza, a Fossombrone, punta il dito sul comune, sulla giunta, perché insomma, secondo lui, si poteva fare diversamente. Intanto i bambini e gli elementari affronteranno appunto il primo giorno a Fossombrone. Intanto, morto in scooter, oggi funerali a Carpegna, parliamo della morte di Giovanni Ziruddu, che è morto in un incidente stradale con lo scooter, quest'oggi alle 16 nella parrocchia di San Nicolo a Carpegna ci saranno i suoi funerali. Poi invece Pompeo che festeggia il secolo di vita, Pompeo Matteucci, un anziano personaggio che raggiunge i suoi 100 anni con un lungo periodo trascorso anche come emigrante in Belgio tra momenti di grandi sofferenze e sempre dedito al lavoro con notevole impegno, lui che spegnerà 100 candeline e l'augurio di tutti, di tutti i suoi compaesani di poter camminare a lungo nel sentiero della vita sotto le falde del suo amato Monte Nerone. Rientro sicuro in classe, siamo a Cartoceto, Cartoceto fa la sua parte, interventi per 150 mila euro nei sei plessi, il sindaco Rossi dice ma dal governo solo confusione, vogliamo consentire ai ragazzi di pranzare in mensa, triste pensarli in classe con un lunchbox, cioè le schiscette insomma, quelle cose che si portano da casa, a volte le segretarie quelle che vogliono fare la dieta che si portano le schiscette da casa, ecco, dovrebbe essere così anche per gli alunni, ma insomma, già gli togliamo il bello di avere un compagno di banco che poi resta compagno anche nella vita, quindi tutti single nel proprio banco, adesso anche mangiare da soli, insomma, però questo è, scomparso il professor Ugolini, un grande benefattore, dentista, aveva 92 anni, è stato il fondatore di Casa Mariolina che accoglie i senza tetto, gli avrebbe compiuti 93 il prossimo dicembre e se ne è andato uno dei professionisti più stimati nella città di Pesaro, uno dei dentisti più conosciuti, il suo funerale ci sarà oggi alle 15.30 in cattedrale. E sempre per i pesaresi, che sono tanti e che salutiamo, che ci ascoltano ogni mattina, la notizia è che le tasse, e qui le tasse, su questo non si può discutere, la tassa non subirà, la Tari non subirà aumenti, ma si potrà pagare con una tranche in meno, quindi non più quattro rate, diciamo così, ma tre. E questo perché la prima data di scadenza intanto sarà il 16 di settembre, e questo perché dice l'assessore Riccardo Pozzi perché abbiamo ridotto la tranche da 4 a 3 per evitare un esborso importante per i pesaresi nel mese di dicembre, visto che in quell'occasione si pagherà anche la seconda rata del Limo. Parliamo di siccità invece perché per fortuna, non per tutti ovviamente, perché quando parliamo di bombe d'acqua, di temporali così violenti, improvvisi, parliamo sì di beneficio per la terra forse, ma anche per le riserve idriche, però poi ci sono anche i danni che fanno queste violente piogge, che sono providenziali per qualcuno, ma non per tutti, come dicevamo. E i temporali più consistenti degli ultimi giorni nell'Alta Valmetauro hanno dato un po' di sollievo ai vari bacini. Ci siamo lasciati alle spalle il mese più critico, dice il direttore dell'Atomichele Ranocchi, e sperando che il clima si mantenga vivace anche a settembre, confidiamo di superare l'estate senza grossi danni, il che significa che anche quest'anno non sarà necessario aprire il pozzo del Burano. Si è parlato di ospedale unico, invece, in un incontro a Monte Felcino con 12 candidati che hanno coperto un'ampia porzione dell'offerta politica per le prossime elezioni regionali, quelle del 20 e 21 di settembre. Le liste in campo sono 18 per 8 candidati a governatore e diciamo che si sono confrontati soprattutto sul tema della sanità. C'è un consenso ampio sulla riapertura dei punti di primo intervento dell'entroterra e anche degli ospedali minori, quelli che sono stati chiusi dal centro-sinistra di Ceriscioli, quindi apertura dei punti minori dei piccoli ospedali. Poi c'è un clima, invece, si è registrato un clima a Monte Felcino di ostilità che tra l'altro era percepibile anche nel pubblico per le politiche del Partito Democratico negli ultimi anni, quindi ostilità contro l'ospedale unico e la sanità privata e chi ha preso la parola, in questo caso vedete nella fotografia Davide Del Vecchio con il microfono in mano, Del Vecchio dell'Udc che dice ho presentato anche un esposto per la chiusura di chirurgia H24 a Fano ma non è servito praticamente a nulla. Quindi d'accordo tutti per dire no all'ospedale unico ma la differenza la fa anche il tema del Project Finansi del quale adesso non entro perché è una cosa piuttosto tecnica quindi acquistate il giornale così potrete approfondire meglio la notizia. Intanto un esercito di artigiani ancora in attesa di che cosa? Dei soldi neanche un euro sia nel mese di maggio che per il mese di giugno. Sono i soldi della Cassa Integrazione che non sono arrivati e il ritardo coinvolge oltre 11.000 lavoratori. Sulle pagine di Vallefoglia e di Urbino le vedete tutte e due nel televisore intanto Anas che mette le strade in sicurezza grazie anche ai lavori di asfaltatura siamo a Vallefoglia il sindaco Cucchielli ringrazia dopo le segnalazioni per buche e tratti e tratti sconnessi e poi a Urbino invece l'apertura è per la provincia che vende le aree parco ora almeno le acquisti il comune sale la protesta di Sasso Corvaro per l'asta di due terreni dell'ex vivaio di Ripacavagna e poi qui di spalla la notizia in breve l'addio al centauro finito contro il marciapiede e parliamo di Giovanni Ziruddu lo vedete nella fotografia qui in basso il cui funerale si terrà come abbiamo già detto alle ore 16 nella chiesa di San Nicolò di Carpegna la pagina di Urbino del resto del cardino invece apre la dedica alla festa dell'Aquidone un appuntamento molto atteso dagli urbinati e non solo ma che quest'anno ovviamente si presenta in versione molto ridotta Giorgio Ubaldi che è presidente di questa associazione dell'associazione delle contrade spiega cosa cambia quest'anno un drone riprenderà tutta la manifestazione ma la festa si farà con una formula diversa senza il canonico lancio dalle cesane con relative gare sul Corriere Adriatico invece le due pagine Val Metauro e Val Cesano scuola il sindaco ora protesta il sindaco è quello di Cartoceto Enrico Rossi non ci sono norme univoche se la prende con la ministra Azzolina dubbi su trasporti e su refezione cioè sulla mensa sul cibo da dare a questi bambini il primo cittadino chiede la possibilità di usare per il pranzo gli spazi comuni e non il lunchbox mentre Bonci da Fossombrone dice alla scuola elementare di Calmazzo non chiuderà ottenuti fondi nazionali per l'adeguamento sismico ma niente aule anti-covid e dunque ecco perché vengono spostati tutti a Fossombrone lavoro urgente invece al cimitero di Mondolfo a causa del picco di decessi determina dell'ufficio tecnico per realizzare 15 nuovi loculi a Mondolfo e poi a Monteporzo si torna a scuola in sicurezza e il sindaco garantisce spazi idonei e servizi di mensa e trasporto siamo le pagine dello sport questo è il Carlino fra l'alme di Sabatino un ritorno di fiamma il difensore centrale potrebbe tornare a vestire la maglia granata mister Alessandrini lo considera una garanzia per il reparto mentre la VL qui siamo al basket la VL riannode il filo contro Brindisi oggi ad Olbia con inizio alle ore 17 ci sarà il debutto ufficiale in Supercoppa contro l'Epicasa era stata l'ultima avversaria prima del lockdown poi ancora in parliamo di pallavolo Serie A3 siamo a Fano Vigeler punta sulla Virtus la gloriosa società fanese ha trovato lo sponsor sosterrà pure il Vivaio Voltan qui torniamo al calcio la Vispesero un affare per la Vis lo avevamo preso a zero Claudio Crespini ricostruisce la vicenda che ha portato il giocatore a Reggio valuteremo più avanti dove sarà più utile reinvestire la sua cessione rinviata alla pubblicazione del calendario due società sono a rischio dunque sono possibili dei ripescaggi e con questa notizia di sport chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del mattino grazie per la vostra cortese attenzione vi ricordo stasera l'appuntamento con il telegiornale tutte le notizie che da questo momento in poi accadranno in città e in provincia ve le diremo ve la racconteremo nell'edizione delle 20 e 30 e se volete contribuire volete contribuire anche voi con le vostre segnalazioni come sempre il numero di telefono lo conoscete potete utilizzare whatsapp per mandarci foto video o semplici messaggi di testo buona giornata a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti